Ora direi di iniziare, buongiorno, buongiorno, sono Antonino Di Pietro, responsabile commerciale di VRV, in questa breve presentazione i contenuti che tratteremo sono un breve scursus dell'azienda, quelli che sono i nostri servizi, i settori che forniamo, quelli che sono i nostri numeri, i materiali che trattiamo e lavoriamo, le nostre certificazioni e la parte che mi rappresenta un pochino di più è quello relativo alla preventivazione. Poi passerò la palla al mio collega Claudio che parlerà dell'evoluzione di VRV negli ultimi anni. Quindi direi di partire, insomma. VRV nasce nell'80 a Mirandola, in provincia di Modena, come VRV, VRV, dalle iniziali dei tre soci fondatori, come officina meccanica di precisione, principalmente come lavorazioni meccaniche tradizionali. Nel 99, appunto, vengono inserite le prime macchine a controllo numerico e si espande con nuovi spazi, quindi nuovi capannoni. Nel 2002 l'azienda passa da SDF a SRL e avviene il passaggio generazionale da due dei soci che passano la palla ai loro figli. 2003-2008 è un periodo importante in cui viene inserita la prima fresatrice 5 assi e un sistema cut-cam per lavorazioni complesse per quel che riguarda l'asportazione di trucciolo. 2009-2010 è un periodo di leggera flessione dal punto di vista, come sappiamo, a livello di crisi, ma VRV non si ferma e inserisce in questo frangente la prima macchina multitasking a sei assi. 2011-2011 è caratterizzato dalla certificazione ISO 9001 e quindi ha nuovi standard a livello procedurale all'interno dell'azienda. 2012-2012 è tristemente famoso per il terremoto dell'Emilia che ci vede colpiti particolarmente, ma riusciamo con estrema resilienza a risollevarci e riusciamo a dare comunque continuo servizio ai nostri clienti appoggiandoci a una rete di fornitura esterna. E quindi riusciamo ad andare avanti e rimanere comunque un punto di riferimento per i nostri clienti. Nel 2013, nonostante il periodo non proprio favorevole, l'azienda comunque riesce a segnare una nuova crescita di fatturato e nel 2014 l'azienda artigiana passa a industria. Il 2017 è l'anno in cui inizia un vero e proprio processo di riorganizzazione aziendale che va in parallelo con quella che è l'omologazione nel mondo della Formula 1. diventiamo partner ufficiali per scuderie importanti del settore race e questo appunto a testimoniare l'eccellenza che è presente all'interno di EVRV. Il 2020 è un ennesimo traguardo oltre appunto ai 40 anni di attività è la certificazione 9100 che ci permette appunto di costruire e realizzare particolari per il settore aerospaziale e aeronautico. Oltre a questo, nuovi standard di certificazione si raggiungono con la ISO 18404 e la 3053 sul miglioramento continuo. Oggi siamo un'azienda di 32 collaboratori qualificati, un parco macchine estremamente all'avanguardia e quindi diciamo un'azienda sempre volta a cercare l'evoluzione e comunque l'eccellenza. Come dicevamo, BRV appunto è una meccanica di precisione, forniamo e produciamo componenti meccanici industriali da piccole serie a, da prototipi diciamo a piccole serie nel campo della meccanica in generale. Quello che offriamo non è solamente tornitura e fresatura ma il nostro obiettivo e che ci fa essere appunto un partner per i nostri clienti è quello di fornire comunque un prodotto finito. quindi dall'acquisto della materia prima alla lavorazione a tutta la gestione di quelle che sono le fasi che gestiamo esternamente quindi trattamenti o lavorazioni esterne fino a piccoli montaggi e alla fornitura di carte di controllo a garanzia appunto della conformità dei particolari alla specifica cliente. Come dicevamo i nostri servizi interni appunto sono quello della tornitura, della fresatura e dei rilievi dimensionali. Parlando di tornitura il nostro reparto è composto da nove macchine all'avanguardia e sfruttiamo moderne tecnologie CAD-CAM per la lavorazione fino a cinque assi. Di recente introduzione multitasking CTX 1250 beta che rappresenta diciamo una delle massime espressioni della tecnologia nel senso che è una tecnologia multitasking a sei assi che è già nota in via Revi da parecchi anni e che ci permette appunto di costruire particolari dall'elevata complessità geometrica sia torniti che fresati contemporaneamente. Per quanto riguarda la fresatura il nostro reparto è composto da sette fresatrici di cui cinque a cinque assi e due tradizionali centri di lavoro a tre assi. Uno di questi che si vede anche nella foto è una tecnologia nuova per il nostro settore non è un'abitudine trovarla all'interno di officine come la nostra che è appunto una fresatrice a tre assi con un piano aspirato che permette di lavorare da lastra di alluminio o di plastica con un campo di lavoro importante nel senso che riusciamo a gestire due metri per quattro quindi con elevate precisioni comunque di una fresa tradizionale. Fiora all'occhiello dell'azienda è sicuramente la sala metrologica dotata di tutta la tecnologia necessaria per poter controllare la conformità dei particolari relativamente alla specifica che ci viene fornita dal cliente. Tra le strumentazioni principali ricordiamo due Zeiss modello Contura serie G2 e G3 con testina indecizzata vaste a 20.700 posizioni profilometro rugosimetro durometro proiettore Starret e telescopio 3D per avere diciamo un controllo a 360 gradi delle nostre produzioni. i settori che forniamo sono prettamente quelle delle macchine automatiche packaging e labeling nel campo del food and beverage in generale e farmaceutico. Settore motorsport come si accennava in precedenza e quindi scuderie rinomate appunto il settore Formula 1 e appunto aerospaziale e difesa da qualche anno. Tutto questo ci permette di offrire comunque un servizio uno dei migliori servizi attualmente che diciamo riusciamo a garantire anche oltre diciamo al costante aggiornamento del nostro parco macchine anche alla costante formazione che facciamo al nostro staff insomma. Per quanto riguarda i nostri numeri a livello di tornitura riusciamo a gestire diametri massimi di 400 e per quello che riguarda la fresatura a tre assi abbiamo un campo di lavoro di 500 per 1000 e come accennavo prima sul campo aspirato sul banco di lavoro aspirato 2000 per 4 e sui cinque assi raggiungiamo un cubo di 800. Tutta la materia prima che entra in VRV proprio per tutte le certificazioni che dobbiamo appunto rispettare e per garantire la massima tracciabilità è appunto identificata sia che si tratti di conto lavoro sia che si tratti di acquisto pieno tra i materiali che lavoriamo principalmente abbiamo gli acciai inox quindi EASY 303 304 e 316 gli allumini in generale in generale acciai rame bronzo e leghe super leghe quali incone e il titanio fino alle materie plastiche Un breve scorso sulle nostre certificazioni quindi la 9001 2015 la 18404 e la 13053 e la 9100 che appunto ci permette di attesta diciamo il raggiungimento di elevati standard di qualità aziendali per quanto riguarda il sistema di preventivazione nel 2020 abbiamo inserito un software proprio appunto per potenziare quella che è l'area preventivazione che si chiama Linkost di Hyperlean un software un software molto rivoluzionario insomma nel senso che permette di avere un risultato comunque oggettivo in termini di tempistica e tempi ciclo si parte dall'acquisizione del modello 3D quindi come se si dovesse iniziare a fare proprio un part program da post processare in macchina e tramite l'analisi del disegno quindi viene inserita la materia prima le rugosità da rispettare quelle che sono le tolleranze e filettature fori tollerati si procede appunto con l'analisi in output il software appunto fornisce una schermata di questo tipo quindi si può vedere il modello 3D quelle che sono state analizzate dal programma che sono appunto le feature le varie operazioni che proprie di ogni tipo di lavorazione e il dato in output quindi il tempo tutto questo ci permette appunto di essere veramente oggettivi e di avere uno strumento anche in termini di trattativa commerciale con il cliente poiché all'interno di questo software è stata virtualizzata tutta l'officina in un processo che è durato un anno e mezzo e che abbiamo visto essere veramente veramente efficace in determinate situazioni io avrei finito faccio partire un video aziendale e poi passo la parola a Claudio che vi illustrerà insomma l'evoluzione degli ultimi anni ringrazio il collega Antonino per la sua parte di presentazione avete potuto conoscere che cos'è la nostra azienda chi siamo e qual è la nostra storia la nostra storia passa per un momento di evoluzione importante che è stato dettato dal mondo che ci circonda perché il mondo nel corso degli ultimi vent'anni è cambiato profondamente quindi ci siamo trovati a dover affrontare quello che non solo il mercato ma il mondo in generale ci proponeva e questo nello specifico dal 2017 in poi come avete potuto vedere ha comportato una serie di interventi a livello aziendale prima di tutto però è stato importante capire il contesto che ci trovavamo ad affrontare e quello che oggi è stato definito in modo estremamente preciso come VUCA World quindi un mondo che è diventato volatile incerto complesso e ambiguo dove quello che fino ad oggi è stato il riferimento delle PMI quindi delle aziende manifatturiere è diventato un contesto estremamente fluido dinamico e assolutamente incerto quindi questa incertezza si è andata poi a trasferire sui riferimenti delle aziende stesse e nello specifico sul mercato i clienti i modelli di business stessi che le aziende dovevano affrontare il mercato ha subito un'estensione del suo dimensionamento con una globalizzazione a livello di sistema dove ad un'offerta sempre maggiore di mano d'opera anche provenienti da distanze più importanti non c'è stato un reale ridimensionamento e un reale ridimensionamento della domanda perché le aziende soprattutto nel settore delle produzioni a cui noi siamo abituati a interfacciarci non sono cambiate inoltre è avvenuto un cambio generazionale e anche di approccio filosofico a quello che è il concetto della subfornitura dove la finanza è entrata nel business in un modo preponderante se una volta erano presenti dei buyer quindi degli acquisitori con una forte esperienza soprattutto meccanica in grado di costruire un rapporto con quello che poteva essere il partner e il fornitore il ricambio generazionale ha portato l'introduzione di nuove figure estremamente competenti diciamo a livello accademico ma con un basso livello di competenza tecnica e questo ha portato a una fortissima perdita di margini operativi perché il servizio è stato spostato a ridosso invece dell'aspetto meramente economico del risultato i clienti stessi quindi hanno modificato il loro approccio ai fornitori con una perdita della fidelizzazione che era un elemento fondamentale noi abbiamo clienti da 20 anni ma ne abbiamo cambiati anche ogni 3 anni questo perché la numerosità dei fornitori anche perdendo magari qualità o servizio ha avuto ragione in termini di prezzo e quindi semplicemente di fornitore inoltre i clienti hanno cambiato le loro esigenze le loro aspettative nei confronti dei fornitori con una richiesta sempre maggiore in termini di garanzia sui processi monitoraggio e misurazione delle performance stesse quindi il fornitore non solo doveva dare il proprio prodotto realizzato nel modo giusto ma anche entro canoni nuovi che fino a qualche anno fa non erano assolutamente richiesti quindi la qualità non è più diventata sufficiente quindi il servizio a 360 gradi quindi il rispetto di determinati canoni di performance è diventato il nuovo must have nel termine della fornitura i modelli di business stesso che l'azienda si trova ad affrontare ne vanno a modificare le dinamiche interne oltre che quelle di proposizione al mercato attraverso uno spostamento identitario quindi la classica azienda di produzione quale noi siamo è diventata un'azienda di servizio perché deve iniziare a fornire tutta una serie di caratteristiche oltre che identitarie di prodotto e quindi di supporto al cliente che una volta non erano richieste abbiamo visto prima l'esempio di carte di controllo certificazioni tracciamento di materie prime quando una volta per dire il contolavoro era una fornitura semplice di materiale la realizzazione del pezzo consegna questo ha portato alla necessità un incremento delle competenze aziendali per rispondere a queste nuove esigenze dei nostri clienti e nuovi valori che se una volta erano sicuramente presenti in azienda oggi siamo tra virgolette costretti e portati a dover trasportare al di fuori delle nostre mure quindi un'identità un senso di inclusività di sostenibilità e di avanguardia che una volta si otteneva semplicemente con la visita del cliente in azienda mentre oggi va veicolato con tutti quelli che sono i metodi moderni è qui nello specifico nel 2017 che VRV inizia effettivamente il suo cammino evolutivo siamo partiti dal paradigma un cambio importante una volta le aziende erano uomocentriche quante officine vivevano sulle spalle del proprio capofficina responsabile di produzione che diventava comunque un'entità tentacolare all'interno dell'azienda questo oggi non è più possibile infatti si è passati da un tema di un'azienda uomocentrica ad una processocentrica dove il processo che veicola le decisioni che veicola i ritmi e le esigenze dell'azienda in luogo di quelle che potevano essere competenze meramente tecniche di uomini di produzione come potete vedere il sistema di VRV era già un sistema estremamente strutturato con delle unità già definite e già organizzate in modo proprio quello che mancava però era un aspetto di coordinamento quindi una vera e propria area delle operation che servisse da collettore e uniformasse il sistema di risposta delle parti coinvolte quindi entrando nel merito di controllo logistica acquisti produzione e ufficio tecnico abbiamo iniziato a lavorare sulla costruzione di un collettore di processo quindi rimaniamo sempre su un tema dove non è l'uomo l'elemento fondante ma il processo a questo punto abbiamo introdotto quello che per una PMI del nostro livello è un elemento rivoluzionario quindi una pianificazione una schedulazione avanzata capacità finita che ci permettesse di elevare fortissimamente il nostro servizio al cliente infatti oggi come avete potuto vedere ci troviamo a confrontarci con partner veramente importanti il settore Formula 1 il settore Aerospace che ci riconoscono un'esclusività in questo tipo di approccio tanto da essere tra le pochissime PMI a poter vantare di lavorare a questi livelli di pianificazione e schedulazione l'introduzione del planning ha creato veramente la chiusura del cerchio di quella che era una struttura già esistente perché ci ha permesso di creare un sistema bidirezionale che potesse funzionare in modo effettivamente efficiente come andando a portare il processo a lavorare sia nella direzione quindi delle vendite della qualità ma al contempo di ricevere un ritorno per poter evolvere costantemente i servizi ai nostri clienti la risposta deve essere strutturata quindi è passata attraverso un'analisi costruita e estremamente avanzata del nostro sistema quindi un'analisi di un sistema esiste quindi di ciò che ci trovavamo ad affrontare in quel momento con uno svellamento delle prime criticità una misurazione delle competenze delle performance dei collaboratori che è un elemento fondamentale della giusta riuscita di un progetto di riorganizzazione e l'identificazione di aree di miglioramento che potessero essere progressive l'analisi del sistema esiste nonostante l'azienda fosse già organizzata e portasse avanti ottimi risultati nel tempo ha svelato diversi elementi di criticità estesi e frequenti fermi macchina tempi di attesa in fase di benestare molto lunghi attrezzaggi eccessivamente lunghi rispetto a quelle che potessero essere le esigenze delle nostre forniture e dei nostri risultati programmi cat cam incompleti e mancanti al momento del go produttivo quindi era il momento di andare in macchina non eravamo pronti con il programma per la messa in lavoro alta numerosità e alto valore delle non conformità quindi già un'azienda che tracciava le non conformità ma al contempo non era in grado di strutturare delle azioni correttive poca chiarezza sui tempi di produzione il sistema non permetteva un rilevamento a tempi in tempo reale e ci costringeva ad accettare versamenti volontari da parte degli operatori con tutta la discrezionalità che questo comportava difficoltando lo scoprire le cause radici dei crash di processo potete immaginare che a fronte di una così alta numerosità di elementi di variabilità fosse estremamente difficile intervenire in modo concreto puntuale quindi che cosa è emerso da queste analisi che l'assenza di una pianificazione chiara e condivisa generava tutta una serie di crash di problematiche questo perché stavamo ancora passando dall'azienda uomo centrica a quella processo centrica era l'uomo che dava il tempo ai processi ma i processi erano troppo avanzati perché l'uomo potesse supportarli una difformità formativa fra gli operatori la nostra è un'azienda molto giovane la nostra età media è poco al di sotto dei 40 anni questo vuol dire avere operatori molto esperti e operatori molto giovani quindi la difformità formativa faceva sì che avessimo difficoltà ad allineare i sistemi di controllo durante il processo altissima variabilità di utensileria abitudini individuali attrezzature comuni che non facevano altro che creare variabilità nel nostro sistema una programmazione catcam effettuata a processo iniziato chiedo scusa perché non c'era una visione di sistema una visione complessiva non si aveva un'idea chiara di che cosa sarebbe successo e quindi si interveniva al momento l'altro frazionamento è mancato controllo del processo mancanza applicazione di azioni correttive mirate monitorate e mancato coinvolgimento del personale faceva sì che non si potessero creare dei circoli viziosi di recupero sulle anomalie di processo e il sistema di registrazione come vi dicevo poco fa era assolutamente basato su un elemento di descrizionalità che su elementi complessi non può essere accettato ecco che l'approccio metodologico rigido e rigoroso ci è venuto incontro abbiamo reso misurabile il sistema quindi abbiamo costruito delle metriche ripetibili abbiamo trovato quindi le cause radice che andavano a gestire a generare le nostre problematiche abbiamo applicato i correttivi ne abbiamo misurato i risultati e poi abbiamo ripetuto sostanzialmente abbiamo applicato un processo lean appoggiato da una struttura 6 sigma la misurazione delle competenze è stato un elemento fondamentale abbiamo reso misurabile il processo e poi abbiamo spostato il focus sulle persone perché le persone in un'azienda come la nostra sono veramente il motore dei risultati che andiamo a generare l'ascolto dei collaboratori è stato fondamentale attraverso delle semplicissime metodologie di analisi tempi e metodi anche a livello di ufficio quindi siamo andati a identificare alcune aree di criticità che abbiamo affrontato e risolto abbiamo revisionato le funzioni abbiamo spostato delle funzioni per poter ottimizzare sulla base delle capacità degli operatori e dei collaboratori il massimo potenziale che avevano a disposizione abbiamo formato ogni anno l'azienda investe in circa 200 ore di formazione per i dipendenti su temi mirati sulla base di quello che è il nostro costante processo di misurazione dei risultati quindi formazione misurazione delle performance arricchimento formativo quindi non ci fermiamo a formare per ciò che serve ma per ciò che pensiamo avverrà domani miglioramento continuo come dicevo prima 6 sigma per quello che è l'approccio metodologico all'analisi dello sviluppo le aree di miglioramento sono ovviamente quelle di produzione quindi un elemento di efficientamento un'innovazione tecnologica costante aziendale poco fa il collega Antonino vi ha parlato dell'ultima macchina introdotta stiamo parlando comunque di macchine che riescono a effettuare lavorazioni a 6 assi quindi a livelli di complessità estremamente alti questo perché l'azienda si approccia sia a mercati d'eccellenza ma deve sempre fornire un risultato a livello di ciò che gli viene richiesto elevazione del servizio le metodologie applicate sono metodologie moderne quindi l'in production che ormai è estesa assolutamente a tutti i sistemi industriali 6 sigma toc e poi come si parlava di sistemi anche tecnologici quindi sistemi mess di rilevazione dei tempi schedulazione a capacità finita che per una PMI come noi è un qualcosa di assolutamente fuori dal comune e industria 4.0 noi lavoriamo con investimenti in 4.0 dalla gestione delle materie prime fino addirittura a lavorazioni sui centri di lavoro ecco quindi che il nostro sistema ci permette di avere una visibilità importante su quello che è ciò che accadrà e questo per noi è fondamentale perché ad un approccio meramente produttivo di quello che può essere una gestione di una PS quindi di una schedulazione abbiamo affiancato il supporto commerciale quindi la nostra area commerciale prende direttamente i dati dal nostro Gant quindi dal nostro sistema di schedulazione e lavora con i clienti sulla base delle disponibilità mirate di quello che è la nostra capacità produttiva senza quindi andare a penalizzare il servizio al cliente ma anzi rendendosi efficiente con un significativo aumento dei risultati in termini di on time delivery come vi dicevo non è un'evoluzione che si fa in poco tempo deve essere strutturata ma i risultati sono assolutamente tangibili l'inalzamento generalizzato delle competenze metrologiche ha ridotto in modo sensibile i fermi macchina infatti le abbiamo abbattuti del 70% creando delle semplicissime procedure di controllo a bordo macchina abbiamo ridotto tantissimo il carico di lavoro della sala metrologica che si trovava spesso coinvolta in benestare su misurazioni molto semplici che quindi creavano dei colli di bottiglia dove in realtà gli operatori oggi sono tutti in grado di gestirsi in assoluta autonomia riduzione del 90% della tesi di benestare oggi i benestari importanti vengono dati ma vengono studiati sulla base di quello che è la nostra schedulazione quindi il nostro collaudo riceve benestari ma in tempi definiti riduzione del 48% dei costi di utensilleria strutturare il sistema in modo organizzato ci ha permesso di ottimizzare gli investimenti di utensilleria un'azienda come la nostra investe anche fino a 200 mila euro in un anno in utensili questo vuol dire ridurre del 48% gli investimenti e quindi un immobilizzo di capitale importante che va a tutto beneficio dell'azienda stessa riduzione del 70% dei costi di non conformità è un risultato eccezionale perché passa attraverso la formazione dei dipendenti qui la competenza degli operatori e dei dipendenti in generale ci ha permesso di strutturare il processo in un modo più sicuro più coerente e quindi con meno difettosità abbiamo completamente azzerato i tempi di attesa dei programmi CAD CAM in produzione questo è avvenuto grazie al sistema di schedulazione noi scheduliamo la programmazione CAD CAM quindi i nostri programmatori programmano fino a 6 giorni in anticipo ciò che andrà in macchina perché hanno una visibilità estremamente chiara di ciò che accadrà e non programmano mai in modo improvvisato inoltre abbiamo eliminato quell'errore di processo che prevedeva la programmazione CAD CAM a processo iniziato per cui prima ancora che il materiale sia disponibile per andare in macchina noi spesso ci troviamo con i programmi pronti la comunicazione date di consegna ai nostri clienti è diventata altamente affidabile ed avviene già in conferma ordine con un ottimo risultato in termini di spostamento quindi noi abbiamo ridotto significativamente gli spostamenti di dati ai nostri clienti perché la visibilità che abbiamo con il nostro sistema APS ci dà un'altissima affidabilità abbiamo inoltre portato al 97% il nostro on-time delivery rimedio sui clienti quindi abbiamo alzato tantissimo il nostro servizio proprio per garantire una qualità di consegna che non fosse diciamo discutibile e andasse a toccare il nostro livello di servizio ed è qui che siamo passati e sono a conclusione da quello che una volta era un'azienda uomo centrica ad un'azienda processo centrica ma dove il processo diventa oggi servizio al cliente quindi il nostro cliente ci chiede supporto il processo gestisce in toto quanto richiesto per dare una risposta in tempi concreti affidabili e di qualità ai nostri clienti tutto questo passa attraverso un lavoro collettivo un lavoro molto impegnativo che ci ha coinvolto tutti negli ultimi sei anni che passa attraverso il nostro sistema qualità l'analisi dei dati relativi alle non conformità i risultati che i nostri clienti ci attestano e che noi misuriamo a nostra volta l'utilizzo di sistemi avanzati avete visto prima il sistema di preventivazione è un altro elemento che ci differenzia rispetto a chi ci circonda perché ci dà un'oggettività che è assolutamente inconfutabile ci dà ripetibilità e ci dà quindi una garanzia di qualità e di servizio quindi siamo a poter parlare della conclusione della nostra evoluzione per quello che riguarda questo momento ma che ovviamente andrà avanti passo dopo passo per quello che è un servizio completo a 360 gradi nei confronti dei nostri clienti grazie